Ciao ragazzi, come va? Oggi voglio parlare per l'ennesima volta del Mi Watch perché esiste una nuova applicazione che non è nient'altro che uno store dove possiamo scaricare tantissime applicazioni per il nostro Mi Watch. Seguite il video! Come ben sappiamo ho dedicato tanti video su Mi Watch, infatti potete trovare la playlist apposita sul mio canale YouTube. Inoltre sappiamo che il Mi Watch è il sistema operativo UROS di Google, però nonostante ciò è un sistema operativo UROS dedicato esclusivamente alla popolazione cinese. Però grazie ai programmatori e ai vari video su YouTube e anche al canale di Telegram, dove ci sono anche io, abbiamo cercato di rendere il più globale possibile il Mi Watch. Vi starete chiedendo perché insisto tanto su Mi Watch? Ragazzi è molto semplice perché anche se è vecchio di due anni, con 100 euro possiamo effettuare tante cose. Possiamo effettuare il moliroggio del sonno, del battito cardiaco, possiamo ascoltare tanta musica resistente all'acqua fino a 5 atmosfere, possiamo effettuare le chiamate e rispondere alle chiamate e possiamo anche praticare tanti tipi di sport e inoltre il GPS è molto preciso e valido. Inoltre già queste cose per 100 euro va più che bene secondo me, però ragazzi non ci accontentiamo. Infatti tramite un'applicazione APK, che vi lascio qua giù nell'info box, che non è nient'altro che uno store, possiamo scaricare e tramite quest'app, quindi scaricare e aggiungere altre applicazioni sul nostro Mi Watch. Per restate di questa applicazione, senza che ve lo vi spiego un'altra volta, andate a vedere questo video che ho fatto diverso tempo fa e che comunque vi può essere molto utile. E niente ragazzi, per oggi è tutto, mi raccomando seguitemi anche su TikTok e spero che questo video vi sia piaciuto. Un bacione da Alessandra!